Ciao ragazzi, bentornati, siamo qui a casa mia stavo guardando i nuovi lavori e il primo commento che ho fatto è che il livello si è alzato parecchio bravi, ora sarà difficile scegliere veramente all'inizio mi sembrava più facile perché quelli belli erano in pochi ma anche chi è partito piano è migliorato ad esempio qui ho visto Kia Graff, che è nuovo appena arrivato, cioè si è appena iscritto e ha fatto un bel sito con un video anche in cui presenta un po' il video cioè il sito mi piace parecchio la scelta della musica è super adatta veramente la metteranno nella prossima pubblicità a TeamTribù probabilmente il sito è ben fatto, ora ce lo riguardiamo molto professionale devo dire eccolo qui, purtroppo la finestra non rende comunque l'altra scelta parecchio azzeccata che ho visto che hanno fatto non solo lui è quella dei colori che ha scelto i colori TeamTribù quindi rosso e blu questa è una scelta coerente è giusta, non obbligatoria perché uno può fare un sito bellissimo con altri colori però potrebbe essere un punto a favore se vuoi il primo in classifica è Twin che bisogna ammettere che si impegna parecchio ha fatto un sacco di lavori e soprattutto ha una scarica di support quindi guardiamo i nuovi siti nuovo lavoro ecco, bello bello anche lui ha scelto i colori Team in più ci ha messo i suoi personaggi vediamo un po' i vari lavori ecco questo qui poi simpatico qui ci ha inserito Banksy il video che avevamo fatto un po' di robe prese dal sito attuale in più ha fatto vari lavori cioè ha già e sono tutti particolarmente belli qua un video ok, mi piace parecchio questo ma molto street con le bombolette eh, già i primi lavori erano interessanti, simpatici e ha fatto dei lavori ora nuovi completamente diversi bene ragazzi, quindi conviene magari prendere ispirazione da questi che sono in testa della classifica perché vuol dire che hanno imboccato la strada giusta sicuramente i supporter aiutano quindi convincete più amici possibili a votarvi e poi vediamo qua alcune scelte abbastanza azzeccate cioè Tuen ad esempio ha fatto un sacco di lavori proprio parecchi e questa aiuta più la scelta di inserire comunque sempre gli elementi base del sito quindi perché ho visto anche altri dei bei lavori però assolutamente lontani dal sito cioè quindi dovete riuscire a inserirli dentro a una pagina web quindi dateci dentro perché vedo che molti stanno si stanno impegnando tanto e state migliorando tutti forza e coraggio grazie a tutti grazie a tutti